In un mio video precedente avevo detto che i linguaggi di programmazione seguono delle mode. Bene, in questo video voglio parlare di alcuni linguaggi di programmazione che vanno di moda oggi, alcune loro caratteristiche e soprattutto perché vanno di moda. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Forse nessun linguaggio è legato alla moda oggi quanto lo è Dart. Dart nasce nel 2011 dalla mente malata di Google che vuole creare un linguaggio alternativo a JavaScript e a browser. Oltre che un linguaggio alternativo, Google aveva implementato anche una virtual machine alternativa nel browser Chrome per far girare Dart. Ora, se tu sei della vecchia guardia ti verranno sicuramente dei flashback a quando la Microsoft ha tentato, e grazie a Dio fallito, di fare una cosa del genere negli anni 90 con VBScript e Internet Explorer. Ma non divaghiamo. Visto che avere una virtual machine diversa da quella per JavaScript nel browser è una pessima idea, Google presto abbandona l'idea della virtual machine alternativa, e rende Dart invece un linguaggio che compila in JavaScript. Nel senso che l'output della compilazione Dart è JavaScript, e quindi eseguibile in un qualsiasi browser. Ma anche lì non ha avuto per niente successo per il semplice fatto che Dart è un linguaggio che non offre nulla di nuovo e di cui nessuno sentiva il bisogno. Da un punto di vista sintattico è un orribile incrocio tra Java e JavaScript. Probabilmente in Google avevano tantissimi programmatori Java a cui volevano far scrivere codice front-end, e allora hanno pensato che un linguaggio simile a Java avrebbe facilitato loro la vita. Non lo so, sono solo mia speculazione. Fatto sta che, invece che lasciare Dart morire nel dimenticatorio come avrebbe meritato, nel 2017 Google estrae il suo asso nella manica per rendere Dart rilevante. C'è il framework Flutter. Flutter è un framework scritto in Dart che permette di scrivere applicazioni mobile cross-platform, quindi sia Android che iOS con performance eccezionali. Ovviamente, essendo Flutter scritto in Dart, le app che usano Flutter vanno per forza scritte in Dart. Il grande successo di Flutter è l'unica ragione per cui Dart è rilevante oggi. Quando passerà la moda di Flutter, sono sicuro che Dart non lo usarà più nessuno, un po' come è successo con Ruby dopo che Rails è passato di moda. Intendiamoci, Dart non è un brutto linguaggio, è semplicemente inutile. L'inutilità di Dart è accentuata dal fatto che tutto quello che Dart vorrebbe essere è realizzato in maniera molto migliore da TypeScript. TypeScript è stato creato nel 2012 da Microsoft con lo scopo di essere un superset di JavaScript con annotazioni per i tipi di dati. Queste annotazioni sicuramente hanno il vantaggio di rendere chiaro a chiunque non abbia familiare il token al codebase che facciano i parametri da passare alle varie funzioni, per esempio. Ma anche se usi un IDE è più facile avere funzioni di autocompletamento. È invece soggetto di dibattito se lo static typing di TypeScript riduca o meno la quantità di bug nel codice in quanto non ci sono evidenze sufficienti a dimostrare questa affermazione. Personalmente sono dall'idea che lo static typing ti aiuta effettivamente a trovare alcune tipologie di errori molto presto, cioè in fase di compilazione anziché in fase di esecuzione. E soprattutto TypeScript corregge il famoso errore da un miliardo di dollari. Cioè una variabile che può valere null viene considerata un tipo differente da una variabile che non può valere null. L'enorme vantaggio di TypeScript è che essendo un superset di JavaScript permette di utilizzare qualunque libreria JavaScript. Poi, visto che l'output del compilatore TypeScript è JavaScript, è possibile utilizzare libreria script e TypeScript in progetti JavaScript. Se hai a che fare con la programmazione web o comunque con JavaScript, ti consiglio vivamente di imparare TypeScript, perché, oltre ai vantaggi che abbiamo appena visto, la maggior parte dei progetti JavaScript che trovi oggi su NPM, quelli più utili perlomeno, sono in realtà scritti in TypeScript o quantomeno hanno le Type Definition. Un altro linguaggio molto interessante è Rust. Rust nasce a cavallo tra fine anni 2000 e inizio anni 2010 come progetto di ricerca e sviluppo sponsorizzato da Mozilla per vedere se è possibile fare un linguaggio di programmazione che sia memory safe, cioè che non abbia tutti i problemi, sia in termini di difficoltà di programmazione che in termini di vulnerabilità, legati alla gestione manuale della memoria tipica dei linguaggi CAC++, ma allo stesso tempo non necessiti di un garbage collector. Bene, Rust ha dimostrato che non solo è possibile un linguaggio memory safe senza garbage collector, ma anche che gli stessi meccanismi che garantiscono le memory safety sono gli stessi che permettono la concorrenza, cioè di eseguire più unità di codice contemporaneamente. Un'altra caratteristica interessantissima di Rust è la velocità di esecuzione dei programmi, paragonabile a quella dei programmi scritti in C e C++. Personalmente trovo Rust ottimo. L'ho usato per implementare ArchiveFS, se ti ricordi un video precedente. Per esperienza, implementando ArchiveFS, ho anche apprezzato la facilità di interoperabilità con una libreria scritta in C. Ecco, Rust però non è perfetto. Il suo più grosso svantaggio è che è difficile da imparare ed è abbastanza complesso, però ti garantisco che ne vale la pena. All'estremo opposto di Rust troviamo Go. Go nasce in Google, sempre a cavallo tra fine anni 2000 e inizio 2010, con l'obiettivo di avere un linguaggio di programmazione semplice, veloce da compilare e performante, con un ottimo supporto alla concorrenza e alla scalabilità. Tra gli autori di Go troviamo mostri sacri come Ken Thompson e Rob Pike. Se non sai chi sono, ti consiglio di leggere i loro articoli Wikipedia, giusto per farti un'idea. Gli autori di Go hanno in comune il disprezzo per il linguaggio C++ e la sua complessità, quindi hanno creato un linguaggio molto semplice e facile da imparare, che non si discosta molto dal linguaggio C. Un'altra caratteristica di Go è che è un compilatore velocissimo. A differenza di C, C++, Rust, ma anche TypeScript, dove ci vanno svariati secondi o non minuti per compilare un progetto di medie dimensioni, un programma in Go ci mette da una frazione a pochissimi secondi ad essere compilato. E questo velocizza di molto il ciclo di sviluppo di un software. Caratteristica molto importante di Go è il supporto alla concorrenza, che viene implementata in maniera molto interessante, grazie al concetto di GoRoutine, cioè processi che vengono eseguiti in contemporanea, ma molto più leggeri dei thread del sistema operativo, e Channels, che sono i canali di comunicazione tra le varie GoRoutines. Personalmente ho sentimenti contrastanti riguardo a Go. La semplicità del linguaggio è un'arma a doppio taglio. Se da un lato è vero che è un linguaggio semplice e facile da imparare, dall'altro c'è il fatto che questa semplicità rende Go un linguaggio noioso. Se conosci linguaggi di programmazione che utilizzano concetti di programmazione funzionale e vuoi applicare quei concetti a Go, beh, ti troverai frustrato da quanto poco ti offra sia il linguaggio che la sua libreria standard. Per esempio, vuoi farti una copia di un mapping? È un'operazione talmente comune che sicuramente la libreria standard prevede una funzione per questo, vero? Invece no. Per eseguire la copia di un mapping, la soluzione ufficiale in Go è quella di scriverti un ciclo foro a manina. Questo è solo il primo esempio stupido che mi è venuto in mente, ma se vieni da un qualsiasi linguaggio di programmazione moderno, ti scontrerai con i limiti di Go molto presto. GoRoutines e Channels sono sicuramente strumenti molto utili per la concorrenza. Ma, per come sono implementati in Go, non hai le garanzie di memory safety che ti dà rust. E quindi hai ancora problematico come race condition e deadlock dietro l'angolo se non stai attento. Wow, questo è già il secondo linguaggio made in Google che non mi entusiasma. Sto fiutando un tema. Ma a parte gli scherzi, così come abbiamo visto con Dart, anche Go non introduce nulla di nuovo. E tu mi dirai, ma GoRoutines e Channels non sono innovazioni di Go? E la risposta, anche qui, è un bel no. Vediamo Elixir. Anzi no, prima di parlare di Elixir, occorre parlare di Erlang. Erlang nasce verso la metà degli anni Ottanta dalla Ericsson, con lo scopo di avere delle centraline telefoniche affidabili e facili da gestire. A differenza degli altri linguaggi di programmazione che abbiamo visto finora, Erlang è un linguaggio di programmazione funzionale. Ora, non sto a spiegare cosa implica la programmazione funzionale perché richiederebbe un video a parte. Ma, a differenza degli altri linguaggi funzionali, non è un qualcosa che capisci solo se hai una laurea in matematica, ma è un linguaggio che serve a risolvere problematiche concrete, nello specifico migliaia di connessioni telefoniche contemporanee da gestire in maniera affidabile. Proprio per via del fatto che pensato per gestire migliaia di connessioni telefoniche contemporanee ha un ottimo, e sottolineo ottimo, supporto alla concorrenza utilizzando il cosiddetto actor model, cioè sbagliate dei processi, molto più leggeri di un thread del sistema cooperativo, che comunicano tra di loro scambiando messaggi. Fino a metà anni 2000 circa, Erlang è rimasto un linguaggio di programmazione abbastanza sconosciuto se non aveva che fare con l'infrastruttura telefonica. Poi però, alcune persone hanno iniziato a rendersi conto che le problematiche legate alle centraline telefoniche sono molto simili alle problematiche legate ai server su internet. Ecco quindi che alcune società iniziano ad usare Erlang sui loro server. L'esempio più eclatante è quello di WhatsApp, il cui server è notoriamente scritto in Erlang. Purtroppo però Erlang ha tre grossi svantaggi. Il primo è legato alla sua sintassi, che è derivata dal linguaggio Prolog, ed è molto differente rispetto a quelle dei linguaggi con sintassi derivata dal C, tutti gli altri linguaggi visti finora in questo video per intenderci. Questo rende Erlang un linguaggio difficile da leggere se non lo conosci bene. Gli altri due svantaggi sono legati alla sua età. La sua libreria standard ha alcune inconsistenze, che sono legate al fatto che la libreria standard sia ampliata ed evoluta nel corso di oltre 30 anni. L'ultimo svantaggio è che non ha un Build Tool Package Manager moderno. Nonostante questi svantaggi, la potenza e l'affidabilità di Erlang sono troppo ghiotti per essere ignorati. Se solo ci fosse un modo per avere tutti i vantaggi di Erlang e nessuno dei suoi svantaggi. Un attimo, c'è! Torniamo a Elixir. Elixir nasce nel 2012 da Josefa Lim, uno sviluppatore di Ruby on Rails, che voleva portare la scalabilità di Erlang ad una nuova generazione, quella degli sviluppatori web. Elixir, quindi, risolve il problema della sintassi di Erlang, essendo di fatto Erlang, con tutte le sue caratteristiche ma con una sintassi, molto simile a quella di Ruby. Essendo un linguaggio per l'Erlang Virtual Machine, Elixir ha come obiettivo anche la piena interoperabilità con Erlang. Puoi chiamare molto facilmente delle funzioni Erlang di Elixir e viceversa puoi chiamare molto facilmente delle funzioni Elixir da Erlang. Oltre a questo, Elixir ha una libreria standard eccezionale e coerente. Questa coerenza ha fatto sì che Elixir implementasse anche l'operatore Pipe, che è una delle soddisfazioni più grosse che ho avuto dalla programmazione in generale. Inoltre, essendo un linguaggio moderno, ha anche un build tool e package manager di tutto rispetto. La killer app di Elixir è il framework Phoenix, che, se vogliamo, è l'equivalente di Elixir di Ruby on Rails. Se dai un'occhiata al developer survey di Stack Overflow del 2022, vedi che Phoenix è il framework web più amato di quell'anno. Se questa non è la pura definizione di andare di moda, dimmi tu cos'è. Ed è proprio questo il problema con Elixir. Personalmente lo trovo un linguaggio fantastico. Scrivere programmi in Elixir dà una soddisfazione incredibile, non solo per il programma che hai scritto, ma anche per come hai scritto quel programma. Però, visto che le mode sono passeggere, quando il framework Phoenix non andrà più di moda, Elixir farà la stessa fine di Ruby che se non se lo finisce più nessuno? Concludendo. Abbiamo visto alcuni dei linguaggi che vanno di moda oggi. Ce ne sarebbero anche altri, tipo Clojure o Zig, che vanno di moda. Ma non ne ho parlato perché non ho esperienza con quei linguaggi. Rimango della stessa idea del mio primo video sui linguaggi di programmazione. Cioè che non userei mai lo stesso linguaggio per tutta la tua carriera. Per cui, questo video è destinato a diventare obsoleto nel giro di un paio d'anni. Altra cosa, non consiglio nessuno di questi linguaggi come primo linguaggio da imparare. Beh, forse Go, dai. Ma rimango sempre dell'idea che Python e C siano un punto di partenza migliore. Se invece stai già a programmare, ti consiglio vivamente di imparare sia Rust che Elixir. Entrambi non proprio facili da imparare, ma molto belli da usare. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!